Bella a tutti ragazzi, sono ManuelinoCR7 Volevo iniziare questa nuova carriera su Youtube Anche perchè vedendo Giastrone, così, vabbè, li conoscete penso Mi è venuta l'idea di fare lo Youtube E questo è il primo video per spiegarvi tutto Non giocherò, per questa volta no, però farò FIFA, Call of Duty, Destiny Diciamo che quelli che usciranno li farò Ehm, per il, per il, cioè possiamo fare tutto Road to Division 1 Possiamo fare tutte le cose che volete Basta che scrivete sotto nei commenti O se no la prima volta le incomincio io per vedere se vi piacciono o se no Questo qua era il primo video e l'ho voluto fare senza appoggi né niente Perchè per, così, tanto per vedere se per voi va bene Io vi saluto Da ManuelinoCR7 è tutto Ciao